Qualità della vita, Peser Urbino migliora di 31 posizioni, tragedia Fano sedicenne trovato morto in casa, furgone si ribalta in superstrada, un ferito grave e traffico in tilt, la solidarietà dei pesaresi in favore di Iopra. Sport Weekend da incordiciare per WL e Italservice. Una buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di Rossini News, telegiornale di lunedì 12 dicembre che apriamo con l'annuale pubblicazione della classifica italiana sulla qualità della vita stilata ormai da 33 anni dal quotidiano di economia nazionale Il Sole 24 Ore, una classifica in cui Pesero e Urbino spicca per essere la provincia che più di ogni altra si è migliorata da un anno all'altro. Pesero Urbino si piazza al 25esimo posto fra le province italiane in cui si vive meglio. Questo racconta l'indagine 2022 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita pubblicata oggi dal principale quotidiano di economia nazionale che ha radiografato le 107 province dello Stivale. Una fotografia del territorio che Il Sole 24 Ore replica da 33 anni e in cui il risultato del nostro territorio è rilevante per una ragione su tutte. Pesero Urbino infatti dal 2021 al 2022 ha guadagnato ben 31 posizioni in un anno. Nessun'altra provincia italiana si è migliorata tanto negli ultimi 12 mesi. Secondo il Sole 24 Ore è Bologna la provincia italiana in cui si vive meglio in un podio completato da Bolzano e Firenze. Col suo 25esimo posto Pesero è la provincia marchigiana in cui si vive meglio, superata Ancona che resta comunque a ruota al 28esimo posto, più indietro Ascoli Piceno 42esima, Macerata 59esima e Fermo 73esima in una classifica italiana che viene chiusa dall'ultimo posto di Crotone. Il 25esimo posto di Pesero Urbino è frutto della media di diversi parametri indagati. La sottocategoria in cui la provincia gode del miglior credito è il decimo posto in giustizia e sicurezza entrando così nella top 10 delle 10 province italiane più tranquille sotto il profilo dell'incidenza della criminalità. Molto bene anche la categoria Ambiente e Servizi dove Pesero Urbino si piazza dodicesima per indice del clima, energie rinnovabili e sostenibilità. Bene anche il dato su istruzione e sanità con Pesero Urbino al 26esimo posto. Nell'anno in cui Pesero è diventata capitale della cultura, l'analisi di cultura e tempo libero piazza invece la provincia al 36esimo posto. Nella media nazionale invece il posizionamento in ricchezza e consumi con un 49esimo posto in una classifica che mescola PIL pro capite, prezzi delle case e peso dell'inflazione. Sotto la media nazionale è invece il posizionamento in affari e lavoro con Pesero Urbino 78esimo in Italia per quel che riguarda un dato che analizza tasso di occupazione, ore di cassa integrazione, cessazioni di imprese e start-up innovative. Ed ora ci occupiamo di cronaca, tragedia ieri sera a Fano dove un ragazzo di 16 anni è stato trovato senza vita in casa dai propri familiari. L'episodio è avvenuto in centro storico e indaga la polizia di Fano su quello che sembrerebbe un decesso causato da un gesto volontario. Il giovane avrebbe infatti lasciato una lettera il cui contenuto potrebbe aiutare a far luce su questo dramma. Ed ora invece vi proponiamo un video amatoriale inviatoci dal nostro telespettatore che ringraziamo, video che documenta un grave incidente avvenuto attorno alle 9 sulla superstrada nel tratto tra Lucrezia e Bellocchi in direzione Fano. La dinamica dello scontro è ancora sotto il vaglio della polizia stradale che cerca di ricostruire l'incidente che ha visto un furgone ribaltarsi in mezzo alle due corsie interessando anche un altro autocarro e un'autovettura. Cinque le persone coinvolte di cui una in gravi condizioni trasportata in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Sul posto anche i vigili del fuoco e ANAS per gestire il flusso dei veicoli e ripristinare la viabilità del tratto stradale. E dunque vi ricordiamo ancora il nostro numero whatsapp dedicato alle segnalazioni 370-366-7210. E vi proponiamo un'altra segnalazione di voi telespettatori, quella arrivataci questa mattina attraverso queste immagini che riguardano il cimitero centrale San Decenzio dove vengono segnalate la ripetuta presenza di escrementi di piccione al piano superiore vicino al parcheggio. Come potete vedere dalle immagini questa è la situazione nella quale si imbatte tutte le mattine questo nostro telespettatore nel padiglione dei fiori del cimitero centrale. Ed ora invece vi riproponiamo queste immagini che abbiamo girato una settimana fa riguardanti i timori verso l'arrivo in zona torraccia dell'istituto zooprofilattico sperimentale. Oggi attraverso un comunicato stampa è intervenuto sul tema l'assessore al fare del comune di Pesaro Riccardo Pozzi assicurando che in questa operazione ci saranno zero rischi e zero esperimenti e di contro il centro sarà una grande occasione di sviluppo per la città. Si tratta infatti del trasferimento approvato dal Consiglio Comunale della sede del centro Marche Umbria dall'attuale sede di Villa Fastigi. All'interno, ha ricordato Pozzi, si svolgeranno le consuete attività previste dalla legge che già si svolgono nell'attuale sede e negli altri centri italiani. Il fatto che sarà un centro più innovativo, dice Pozzi, non significa che all'interno verranno eseguiti esperimenti in laboratorio e manipolazioni genetiche. Come spiegato anche dall'istituto, le stalle che lo comporranno accoglieranno gli animali destinati alla macellazione che vengono interessati da patologie. Qui verranno isolati dal resto del bestiame per garantire la corretta gestione sanitaria degli allevamenti mettendo a disposizione strutture di stabilazione per gli accertamenti prima della reintroduzione dell'animale o per le verifiche sanitarie dei capi sotto sequestro sanitario. Cambiamo argomento. A fermo è andata in scena sabato la diciottesima giornata delle Marche. Un'occasione per la regione per parlare soprattutto della sanità che cambia al cospetto del nuovo ministro della salute Orazio Schillaci. Un teatro dell'Aquila pieno di gente ha accolto il ministro della salute Orazio Schillaci arrivato a fermo in occasione della diciottesima giornata delle Marche dedicata alla sanità che cambia. Un'opportunità per individuare le soluzioni idonee a dare le risposte che i cittadini marchigiani attendono da tempo. Liste d'attesa, carenza di medici e strutture sanitarie non all'altezza sono i temi trattati nell'incontro al quale ha partecipato anche il presidente della regione Marche Acquaroli e l'assessore alla sanità Salta Martini. Il problema della lista d'attesa è un problema annoso come noi sappiamo tra le richieste che formulerò al ministro è quello di spostare le risorse previste anche al 2023, poi c'è il tema della carenza di medici, anche sulla carenza di medici faremo delle richieste al governo precise per allungare l'età pensionabile, per allungare tutta una serie di principi che oggi vincolano la disponibilità dei sanitari, d'altra parte se i pensionati possono lavorare nelle cooperative penso che possa anche prevedersi la possibilità che possano lavorare il servizio pubblico. Il tema del personale è un tema conosciuto, in Italia dal 2012 in poi è stata fatta la spending review soprattutto sulla sanità, non sono stati formati i medici, noi siamo arrivati da due anni e stiamo gestendo con tutte le regioni italiane questo problema. Naturalmente è vero che c'è un solo raffolamento dei pronti soccorsi, ci stiamo organizzando per dare delle risposte, nei prossimi giorni concluderemo un accordo con i medici di medicina generale per far partire nelle Marche 41 case di comunità, quindi anticipiamo il programma PNRR e quindi ci sono delle cose concrete che mettiamo a disposizione dei cittadini, penso che la sanità in questo momento sia un'emergenza e che dobbiamo dare delle risposte al personale della sanità, li abbiamo chiamati eroi e adesso dobbiamo riconoscere anche dei trattamenti aggiuntivi, pensiamo semplicemente al grande lavoro dei medici del pronto soccorso, non ci sono più vocazioni nel senso che i medici non scelgono più la specializzazione in medicina d'urgenza, dobbiamo riconoscere a questo personale i meriti che hanno acquisito in questi anni e che continuano ad acquisire ogni giorno. Per una sanità che cambia il governo Meloni ha predisposto 2 miliardi e 150 milioni di euro in più per il 2023, 2 miliardi e 3 per il 2024 e 2 miliardi e 600 milioni per il 2025, annunciando altri ingenti fondi previsti per intervenire sui salari dei medici e il personale del pronto soccorso. Una legge di bilancio fatta in 30 giorni e con un'inversione di tendenza chiara rispetto al periodo pre-covid dove il sistema sanitario nazionale da tutti i governi che ci sono stati dal 2010 al 2019 è stato definanziato. Noi abbiamo messo 2 miliardi e 200 milioni in più quest'anno, è chiaro che una fetta consistente andrà per i problemi energetici ma ovviamente abbiamo tutta l'intenzione di rivalutare la sanità che il covid ha dimostrato essere un punto fondamentale per la nostra nazione. Sbloccare le università a numero chiuso è stato un altro dei temi discussi sabato per il quale è necessario una riprogrammazione in base alle esigenze del territorio nazionale. Che qua negli ultimi 10 anni la programmazione forse non è stata delle migliori, soprattutto bisogna far sì che i giovani medici capiscano l'importanza di lavorare per il sistema sanitario nazionale, renderlo più attrattivo e far sì che alcune specializzazioni che oggi non sono scelte, non sono importanti, penso all'emergenza, all'anestesia, ritrovino vocazioni. E dalla sanità passiamo all'agricoltura innovativa e sostenibile. Rientra proprio in questo concetto il progetto Agri Bio Cons con un percorso arrivato a compimento la scorsa settimana a Falconara. Sull'argomento la nostra Nicoletta Tagliabraccia ha realizzato uno speciale che trasmetteremo domani martedì 13 dicembre alle ore 21.20 ma del quale riforniamo già alcune anticipazioni. Oggi siamo a Falconara Marittima all'hotel Turing dove ha luogo un convegno molto importante dal titolo Agri Bio Cons con tre parole bellissime che riuniscono diciamo un po' tutto quello che è il risultato di un'importante ricerca durata tre anni, agricoltura bioconservativa. Il progetto Agri Bio Cons è un progetto che nasce nel primo mese del 2019 con l'obiettivo di mitigare il cambiamento climatico e quindi la degradazione dei suoli marchigiani. Gli sviluppi sono stati molto importanti e significativi, sono stati infatti argomentati proprio oggi in questa occasione perché hanno permesso di consolidare questo nuovo modello non sviluppato all'interno della regione Marche e di sviluppare nuove tecniche e tecnologie utili a tutti gli agricoltori del territorio marchigiano. E quali risultati sono emersi da questo studio? I risultati emersi sono di vario tipo, sono di tipo tecnologico perché sono stati praticamente misurati tutti i parametri utili per l'erosione dei suoli, infatti è stato proprio sviluppato un nuovo prototipo che oramai è stato diffuso poi su alcuni terreni del progetto e risultati che hanno previsto anche il miglioramento della qualità dei suoli, infatti c'è stato un miglioramento importante insomma della qualità dei suoli, nonostante il periodo comunque del progetto è di quattro anni, quindi c'è bisogno di un maggiore approfondimento di questo e sicuramente l'agricoltore, questo è un risultato che può sembrare scontato ma invece è assai importante, si è avvicinato a questo nuovo modello agricolo bioconservativo con le giuste modalità e con il giusto interesse, cosa che comunque inizialmente non era affatto scontata E siamo qui con Simone Tiberi, agronomo responsabile del progetto ARCA, a cui chiediamo che cos'è il progetto ARCA? Sì, il progetto ARCA è un progetto appunto, l'ARCA è acronimo di Agricoltura per la Rigenerazione Controllata e l'Ambiente, io sono un agronomo e mi occupo della parte agricola quindi di come rigenerare l'ambiente, l'obiettivo di ARCA è quello di rigenerare l'ambiente attraverso il cibo e attraverso appunto tecniche di produzione del cibo rigenerative, queste tecniche prevedono il rispetto dell'agricoltura biologica, applicare il principio della diversificazione culturale nello spazio e nel tempo, ridurre il disturbo a suolo con le lavorazioni, evitando quindi l'inversione degli strati, quindi effettuando minime lavorazioni, conservando il residuo culturale in superficie e mantenendo il suolo sempre coperto appunto per proteggerlo dall'erosione e molto altro. Chiediamo qual è stato il contributo all'interno di questo progetto della Regione? Beh, la Regione comunque attraverso il suo programma di sviluppo rurale ha reso possibile il finanziamento del progetto AgriBioCons con l'attivazione della misura 16.1 che riguarda appunto i progetti innovativi e quindi questo è stato un primo contributo della Regione. Grazie però al progetto successivamente nel nuovo periodo di programmazione il nostro contributo sarà anche agli agricoltori che vorranno attivare le pratiche di minima lavorazione dei suoli e di utilizzo delle cover crop. Marche Multiservizi informa che in seguito ad uno sciopero generale nazionale proclamato da alcune confederazioni sindacali per la giornata del 15 dicembre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi in quella data anche presso il call center e gli sportelli commerciali. L'azienda sottolinea che saranno comunque garantite le prestazioni minime assicurate per legge e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Si è aperta questa mattina nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro la seconda delle tre giornate previste dalla masterclass finale di Cantiere Città. Un progetto promosso dal Ministero della Cultura e realizzato dalla Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali dedicato proprio alle finaliste delle Capitale Italiana della Cultura 2024. Si tratta di un tavolo di confronto volto all'obiettivo strategico comune di dare al paese una carta in più di competitività culturale. E restiamo sul tema di Capitale della Cultura perché domani alle 17 la città ritroverà uno dei suoi luoghi più significativi ovvero il Museo archeologico Oliveriano che riaprirà le sue porte al pubblico nel nuovo allestimento rinnovato. Un nuovo percorso che documenta mille anni di storia del territorio dal periodo Piceno alla tarda età imperiale e che si articolerà in quattro sezioni espositive. Un momento importante che sarà seguito dalle telecamere di Rossini TV così come fu seguita la prima anteprima dell'allestimento di agosto che vi stiamo riproponendo in queste immagini. E nel prossimo servizio vi diamo notizia di un importante appuntamento all'insegna della solidarietà che andrà in scena giovedì sera a Pesaro. Alle porte del Natale la solidarietà dei pesaresi torna a bussare alle porte dello Iopra. Il 15 dicembre alle ore 20 e 30 presso l'hotel Baia Flaminia di Pesaro si terrà infatti la tradizionale cena di gala 2022 di Iopra. Un piacevole incontro conviviale dalla forte finalità benefica arricchita da musica e spettacoli che vedranno protagonisti il maestro Lorenzo Bavai, la cantante Clarissa Vicky, l'attore Cristian Cinepro e il centro coreografico di danza. Il tutto arricchito dalla presentazione della direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi. Durante la serata noi avremo dei momenti di danza, di canto, dei momenti di recitazione con grandi artisti che comunque rappresentano Pesaro oramai in giro per tutta Europa, se parliamo del maestro Bavai anche per il mondo e quindi avremo un noto pianista, avremo Clarissa Vicky come cantante, avremo Cristian Cinepro direttamente dal film Colibri e da mille altre cose, musical e quant'altro e poi abbiamo il nostro centro coreografico che per l'occasione mi ha regalato questa coreografia che sinceramente ho voluto a tutti i costi e il costo del biglietto è ad offerta, siamo già a tante tante prenotazioni, siamo quindi felici così e oltre alle offerte delle persone ci sono stati tanti sponsor che hanno gratuitamente dato il loro aiuto, il loro tributo e quindi vi aspettiamo il 15, speriamo che tutto vada bene e ci sarà anche la nostra dottoressa Emanuela Rossi che dirigerà la serata. Abbiamo preparato una coreografia a cura del maestro Luciano Melandri, una vita splendida di Tiziano Ferro quindi è già un bel messaggio anche per questa serata. Ci saranno i ragazzi, i vostri allievi? Ragazzi allievi della scuola che ormai lavora da tantissimi anni e ha un bel successo e speriamo che anche la serata sia di vostro gradimento. Siamo circa 180 persone l'anno dei quali molti li portiamo avanti anche se il protocollo dice che dovremmo tenerli in assistenza un anno, noi non li abbandoniamo mai perché possono vivere di più, due anni, guarire, quindi noi non li abbandoniamo mai. Lavoriamo 24 ore su 24, Pasqua e Natale, lavoriamo sempre, noi rispondiamo con telefonini privati o dell'associazione, siamo sempre presenti. Tengo a dire che nella nostra Ollus o DV abbiamo tre medici, tre infermieri di grande capacità ed esperienza, abbiamo l'assistenza dello studio RADI per la fisioterapia che offriamo ai nostri pazienti, la psicologa, psicoterapeuta, dottoressa Michele Occhelli per il sostegno a familiari soprattutto perché sono loro che ci cercano e adesso abbiamo creato anche una una cosa nuova, un'estetica ma non estetica per la bellezza ma per quanto riguarda le ferite e i gonfiori delle braccia, io parlo così volgarmente perché i termini tecnici probabilmente sono altri però diamo un'assistenza completa, completa con la massima soddisfazione di tutti e mi ripeto il nostro motto è, me lo sono creato io, professionalità e cuore, cuore e professionalità. Ci teniamo in maniera particolare a sostenere l'attività dello Iopera e a supportare anche questa bella festa che si farà appunto giovedì all'hotel Flaminio, sarà un momento conviviale ma sarà anche un momento per riflettere sulle situazioni tristi che ci sono anche se è Natale e sarà anche un momento per ascoltare buona musica con il maestro Bavai e con Clarissa Vicky. Le realtà come l'Oiopera hanno bisogno di risorse economiche perché si occupano di assistenza domiciliare per i malati oncologici e quindi devono comunque pagare quelli che sono gli infermieri o i medici che vanno a domicilio, sono realtà molto importanti perché consentono alle persone appunto che hanno questa grave malattia di poter rimanere a domicilio, a casa, di fianco ai propri cari grazie appunto a questa assistenza domiciliare che in realtà come l'Oiopera riescono comunque a garantire. E concludiamo come di consueto il nostro telegiornale di lunedì con le notizie dedicate allo sport in cui spicca un'altra convincente vittoria della VL. Una VL formato playoff vince e convince contro Varese intascando la sesta vittoria in campionato salendo al quinto posto in classifica. 101-93 è il punteggio che appare sullo schermo luminoso al termine di un'ottima prestazione degli uomini di Coccerepegia che davanti al calore del pubblico di Pesaro sono tornati a gioire dopo l'ultima amara sconfitta arrivata sul campo di Trento. Buonissime le prove di Cittam e Moretti che dopo la sirena finale sotto la casella punti appare il numero 22 per entrambi. 17 invece quelli messi a referto da Mazzola. Dopo la penultima apparizione dell'anno alla V3 Frigo Arena, domenica prossima i biancorossi saranno attesi sul parquet di Verona per cercare di chiudere al meglio questo 2022. Un anno in cui dopo tanti campionati deludenti il ritorno ai playoff dieci stagioni dopo ha saputo riaccendere di entusiasmo l'ambiente. Entusiasmo che invece faticano ad avere tifosi della Vis, reduci dall'unicesima partita consecutiva senza vittoria da parte della loro squadra. Tre punti che mancano da oltre due mesi e che non sono arrivati nemmeno sabato pomeriggio la prima in panchina di Brevi, quando sul manto erboso, disastroso del Benelli è arrivato il Cesena. Al 1-0 di Fedato, arrivato al 22esimo del primo tempo, ha risposto Corazza dieci minuti dopo, mandando le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Al 67esimo della ripresa il Cesena la ribalta definitivamente, passando in vantaggio col gol di Spendi, relegando la Vis ad una sola posizione della zona play-out e a tre punti di vantaggio dall'ultima in classifica. Classifica che dopo 15 giornate sorride nonostante il pareggio all'Alma Juventus-Fano, appaiata al settimo posto ad un solo punto dai play-off. 1-1 il punteggio finale dopo 90 minuti giocati al Mancini contro Cinza e al Balonga, con i Granata raggiunti a dieci minuti dalla fine da una rete dubbia dei laziali che ha pareggiato il vantaggio iniziale firmato da Drolet. Passando al calcio a 5, l'Ital Service Pesaro si regala l'ottavo titolo in altrettanti finali, disputate alzando al cielo alla Supercoppa italiana. Trofeo agguantato al termine di un rocambolesco 4-3, arrivato sul parquet di Genzano contro l'Olympus-Roma. Torna al successo invece la Megabox Vallefoglia, che dopo 5 partite senza vittorie ritrova il sorriso contro Perugia, imponendosi per 3-7 a 0. Importanti due punti ottenuti al Palacarna Royal di Urbino, che di fatto allontanano le Tigri dalla zona retrocessione. Vittoria ritrovata anche dalla Fiorini Rugby Pesaro, che chiude il 2022 del Toti Patrignani, sconfiggendo Perugia per 29-12. La copertina sportiva però di questo weekend se la merita l'Ital Service Pesaro, che nel sabato sera di Genzano ha alzato al cielo la Supercoppa battendo l'Olympus-Roma. L'Ital Service dipinge la sua ottava meraviglia. Nel sabato sera di Genzano Pesaro ha alzato al cielo la Supercoppa sconfiggendo l'Olympus-Roma per 4-3. E la terza Supercoppa consecutiva è l'ottavo trofeo sollevato al cielo su altrettante finali giocate dalla società del presidente Lorenzo Pizza. Stravolta la squadra, rimane comunque intatto il vizio di Tony Dandelle e compagni di rispondere sempre puntuali all'appuntamento con i match che valgono un titolo. Non fa eccezione la Supercoppa 2022 accolta a Genzano dall'applauso di 200 tifosi pesaresi giunti in terra laziale. Per la squadra di Colini è stata una vittoria costruita su grande fame tradotta in enorme intensità fin dal primo minuto. Quello che contrassegna l'1-0 di De Oliveira poi ribaltato da Bagatini e dal tiro libero dell'ex Marcelinho che fa chiudere il primo tempo sul 2-1. Pesaro però non ci sta e nel secondo tempo arriva il capolavoro. Prima il pareggio di Alflen su punizione, poi il 3-2 di Fortini al rientro nove mesi dopo il grave infortunio al ginocchio e poi la ciliegina del 4-2 di Schiocchette. L'ex Marcelinho accorcia ma l'Ital Service regge e festeggia. Ora bisogna ricaricare le pile in fretta perché martedì è già campionato col turno casalingo posticipato a stretto giro della Supercoppa. Il 13 dicembre alle 20 arriva infatti Camedo Son al Palafiera per provare a dare continuità alla bella vittoria sul Monastir. Dal calcio a 5 alla palla spicchi continua a vincere invece l'Ital Service Loreto Basket. Il rullo compressore guidato da coach Foglietti si è giudicato anche lo scontro al vertice con la Bartoli Mechanics Metauro Academy finita 80-70 per l'undicesima vittoria su 11 partite disputate che irrubostiscono il primo posto in solitare dei gialloblu. E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Come di consueto prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che come ogni lunedì alle 21.20 vede andare in onda il nostro Antonio Astuti con Check Up Obiettivo Salute. Questo programma realizzato in collaborazione con Fisioradi Medical Center e vediamo la tematica della salute che sarà sviluppata questa sera in compagnia del dottore fisioterapista Alion Sciarca si parlerà della riabilitazione del paziente con ernia al disco come detto appuntamento alle 21.20 prima replica alle 23.15 e poi tante repliche che vedete in grafica ogni giorno. A seguire spazio dedicato allo sport ne abbiamo parlato all'interno del nostro TG potrete rivedere in versione integrale la partita della Fiorini-Pesaro Rugby contro il Rugby Perugia che ha chiuso il 2022 casalingo dei Kiwi giallorossi con una bella vittoria. Potrete rivedere tutto questa sera a partire dalle ore 22. E poi l'informazione di Rossini TV torna puntuale domattina con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini che tutte le mattine dal lunedì al sabato vi tiene compagna in diretta dalle 7.20 e domani sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Si chiude qui invece lo spazio informativo di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.